former busnelli due marchi che dall'anno scorso hanno deciso sotto la guida di un unico imprenditore di unirsi e ci siamo concentrati quest'anno sulla zona giorno in particolare tre poltroncine per il tavolo due poltrone e poi abbiamo rieditato un oggetto della collezione busnelli che era uscito di produzione degli anni ottanta che è un po la chiave interpretativa di quello che è proprio il mio obiettivo cioè creare una collezione di oggetti che parlino di design e siano eclettici e ognuno racconti una storia che poi io devo rendere omogenei attraverso un racconto omogeneo di lifestyle ma in realtà ogni oggetto deve avere una precisa identità per quanto riguarda busnelli in particolare abbiamo consolidato la nostra relazione con patrick joan con toan guyen e aperto una nuova relazione che quella con giacomo moore che ho chiamato in particolar modo perché ha un rispetto una cultura del legno propria di former del passato francesco faccina ha creato una nuova seduta attorno al tavolo controvento che abbiamo presentato come novità l'anno scorso e francesco bettoni con cui continuo un piacevole dialogo di ricerca attraverso un imbottito non imbottito che riveste un telaio di metallo molto semplice attraverso una cuffia che crea la parte imbottita dell'oggetto inoltre ed in particolare presentiamo 3 piece di clauson cui visto rune una sedia totalmente in legno che presenta anche un rivestimento in cuoio per renderla maggiormente di comfort e un pezzo molto importante della ricerca di former con borgonovo che ha ridisegnato un sistema giorno molto trasparente un architettura come una grid di coordinate verticali e orizzontali che sembrano galleggiare nello spazio un pezzo molto architettonico